Uè amici, ciao, interrompiamo le trasmissioni per darvi un comunicato speciale, speciale esattamente, edizione speciale, un'edizione speciale perché oggi è stata battezzata una bambina assolutamente splendida, splendida, bellissima, che si chiama Alice, ed è la nostra fan più giovane, esattamente, possiamo dire così, perché è nata a dicembre, ragazzi, quindi oggi è stata battezzata e noi dobbiamo fargli gli auguri, gli auguri, gli auguri, esattamente, alla parte del sindaco, gli auguri speciali del sindaco, guardate, auguri ufficiali, quindi auguri ufficiali, auguri piccola Alice che possa essere una vita serena e piena di soddisfazioni, se lo dice il sindaco, Guarda, hai bisogno, Alice, degli auguri e delle benedizioni, ti manda le benedizioni anche padre Roelio, perché considerando la mamma che ti ritrovi e la madrina che ti ritrovi, allora hai bisogno di molte benedizioni, Ragazzi, noi adesso salutiamo tutti quelli che sono ancora al battesimo, che ci hanno detto, fateci gli auguri ufficiali, e noi li stiamo facendo, quindi noi salutiamo Cristina, la madrina, ovviamente i genitori, Federica e Giacomo, Salutiamo il padrino, salutiamo la mamma della madrina, ma soprattutto i nonni, i genitori di Federica che sono i nostri grandi fan, Rita e Paolo, e poi salutiamo tutti quanti, Torangelo, Pina, Giambalo, Sara, Enrico, Lorena, Davi, tutti quanti, tutti i nostri amici carissimi, che da sempre ci seguono e ci fanno tanto bene, noi mandiamo un abbraccione, un abbraccione, gigante da parte di tutto il cast di Ennassi Post Quarantena, auguri Alice!